Il mio telefono è quasi scarico. Ho bisogno che vediate questo video. Mia figlia Margot Kim è scomparsa da 36 ore. Mi serve il vostro aiuto. Scattiamoci una foto. Uno, due, tre. Sì! Brava! Ciao tesoro, che fai? Gruppo di studio. Devo scappare. D'accordo. Come è andato l'ultimo esame di oggi? Lasciate un messaggio o scrivetemi. Ciao tesoro. Ti chiamo perché eri già uscita per andare a scuola stamattina. Ciao Marco, sempre papà. Per quale motivo hai lasciato il computer a casa? Non riesco a trovare Marco. Aspetta, non riesci a trovare Marco? Abbiamo studiato fino alle nove. Non è rimasta tutta la notte. No, lei se n'è andata alle nove. Le autorità chiedono a chiunque avesse informazioni di contattare il 911 immediatamente. Aggiornami se hai novità. Lei ti ha parlato di qualcosa di insolito ultimamente? Non siamo così intime. Voi siete amici, no? Più o meno. Lei ha degli amici, giusto? È una ragazza riservata. È un tipo silenzioso. L'ho vista pranzare da sola. Giovedì? Tutti i giorni. Ha effettuato un'operazione in uscita di 2.500 dollari. Ha preso un documento falso giorni fa. Ma non ha senso. Dobbiamo valutare la possibilità che Margo sia scappata. Conosco mia figlia. Non è scappata. È il posto perfetto per non fare niente. È il suo portachiavi. Avevi detto che era scappata! Il veicolo è stato trovato ieri notte. C'erano 2.500 dollari in contante all'interno. Qualcosa non torna. E se l'avesse rapita a un perfetto sconosciuto? Non riesce a essere obiettivo. Aiuto! Cerco di aiutarvi a ritrovare mia figlia. Non ci serve il tuo aiuto. Dov'è la notte in cui mia figlia è sconfarsa? Non ci serve il tuo aiuto.